We are going to win. Vinceremo, ha detto Biden. 74 milioni di americani lo hanno votato, mai così tanti per un presidente. Obama ne ottenne 69 nel 2008. Il distacco da Trump in voti è di oltre 4 milioni. Non solo, se tutti gli stati che ora sono tratteggiati in azzurro, quelli nei quali lo scrutinio non si è concluso, ma Biden è in vantaggio, Nevada, Arizona, Pennsylvania, Georgia fossero effettivamente conquistati, bene allora il ticket Biden-Harris avrebbe 306 voti elettorali, molti, molti di più dei 270 sufficienti per entrare alla Casa Bianca. Ma in Georgia si sta ricontando, lo prevede la legge dello Stato nel caso in cui il margine a favore di un candidato sia esiguo. In Pennsylvania Trump si è appellato al vecchio Parlamento, a maggioranza repubblicana, perché annulli i voti per posta. Ha presentato ricorsi in Nevada e spera in un ribaltone anche in Arizona, 60 milioni di dollari stanziati in avvocati. Fox News, la catena di Murdoch che aveva fatto arrabbiare Trump la notte dopo il voto per aver attribuito a Biden la vittoria in Arizona, ex Stato repubblicano, ha dato ora indicazione ai suoi giornalisti di non chiamare mai Biden presidente eletto. E poi c'è il ricorso alla Corte Suprema. Trump ha nominato tre giudici nel suo breve mandato su nove, ultima l'antiabortista Barrett. La maggioranza repubblicana è di sei contro tre, perciò Donald ora spera che i suoi giudici ribaltino il risultato dei voti espressi. È molto difficile che ciò possa accadere perché dovrebbero essere trasferiti dal campo democratico a quello repubblicano Pennsylvania, Georgia, Arizona, mentre Biden basta la sola Pennsylvania, oppure la Georgia e il piccolo Nevada per diventare presidente. Questo è il fatto. Biden è virtualmente il 46esimo presidente degli Stati Uniti, ma Trump resta asserragliato alla Casa Bianca, che è casa sua, almeno fino al 20 gennaio, data in cui si dovrebbe svolgere l'investitura del presidente eletto, e non intende concedere la vittoria. Scopriamo così come la democrazia liberale sia un sistema tutt'altro che perfetto, anzi destinato a entrare in crisi quando la società tende a radicalizzarsi perché le scelte che urgono sono di grande momento.